Salve e ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione di Calabria TV. Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria annullato l'ordinanza di custodia cautelare del processo denominato Propagine e rimesso in libertà Antonino Gioffre al momento dell'arresto sindaco di Cosoleto. Gioffre era agli arresti domiciliari per il delitto di scambio elettorale e politico mafioso e la decisione del Tribunale è intervenuta a seguito della decisione della Corte di Cassazione che aveva per la seconda volta censurato l'ordinanza cautelare e la motivazione del Tribunale, ritenuti affette da vuote argomentativi e deduzioni sconfinati nell'illazione. Il sindaco Gioffre torna libero dopo 16 mesi di arresti domiciliari. A caraffa di Catanzaro 5 cinghiali tenuti in cattività all'interno di un recinto. A far emergere la vicenda una serie di controlli congiunti effettuati dai carabinieri forestali della stazione di Tiriolo e dal personale del servizio veterinario dell'ASP di Catanzarese. Impegnati in attività di prevenzione della diffusione di peste suina africana. In particolare dalle verifiche emerse la presenza all'interno di un'area recintata in un appezzamento agricolo in agro caraffa di 5 capi ibridi di cinghiale privi di marchio identificativo. A seguito della scoperta e della relativa segnalazione al municipio il sindaco di Caraffa Antonio Giuseppe Sciumbata ha emanato un'ordinanza disponendo l'immediato abbattimento degli animali e la termodistruzione delle loro carcasse. A tutela della pubblica incolumità e per evidenti ragioni di ordine sanitario. Ad eseguire il provvedimento su specifica indicazione dell'ufficio caccia del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria sono stati tempestivamente i selettori in forza all'ATC Catanzaro 1. Cambiamo argomento, a Rocella Ionica si è discusso di autonomia differenziata perché non conviene, iniziativa organizzata dal Partito di Rifondazione Comunista. Il progetto di autonomia differenziata viola i principi fondamentali della Costituzione e quanto viene affermato nel tour itinerante Una Indivisibile, un attacco all'unità della Repubblica e all'uguaglianza dei diritti. Iniziativa organizzata dal Partito di Rifondazione Comunista e ha visto una serie di incontri itineranti per diverse città e paesi italiani. Si tratta di un'iniziativa della Rete dei Numeri Pari e dei Comitati contro ogni autonomia differenziata che porterà alla mobilitazione del 7 ottobre insieme per la Costituzione. Ieri a Largo Colone a Rocella Ionica si è discusso perché non conviene l'autonomia differenziata. Ha introdotto Pietro Commisso di Rifondazione Comunista di Rocella e poi le relazioni di Marina Boscaino, portavoce nazionale dei Comitati contro ogni autonomia differenziata per l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti. Tra gli interventi quello di Angelita Russo del Comitato No a di Calabria. A moderare l'incontro c'è il professor Domenico Gattuso dell'Università Mediterranea di Reggio. Se dovesse andare in porto l'autonomia differenziata le regioni a statuto ordinario come il Lazio da cui vengo, come la Calabria dove state voi, potranno chiedere potestà legislativa esclusiva, cioè decidere tutto su 23 materie fondamentali per la nostra vita quotidiana. Tra cui l'istruzione, la sanità, i trasporti, le infrastrutture, il governo del territorio, l'alimentazione, i rapporti con l'Unione Europea. E gliene ho detti 6-7, ce ne sono ancora molte di più perché le materie disponibili sono 23. Il che significherà sostanzialmente determinare i diritti delle donne e degli uomini a seconda del certificato di residenza. Vivi in Calabria, avrai questo tipo di istruzione, questo tipo di sanità, questo tipo di infrastrutture. Vivi nel Lazio quest'altro e vivi in Lombardia quest'altro. Naturalmente è un processo che tende ad avvantaggiare chi già sta molto bene economicamente, cioè le regioni del nord. La differenza nord-sud intanto esiste già platealmente, lo sappiamo tutti, insomma che c'è un divario abbondante anche in termini di welfare, di servizi e soprattutto insomma anche diciamo una povertà diffusa nelle regioni del centro-sud che certamente non sarebbero avvantaggiate da questo provvedimento di calderoli dell'autonomia differenziata, anzi ne uscirebbero ulteriormente danneggiate. Ma danneggiate uscirebbero anche le regioni del nord, quindi non bisogna fare una battaglia meridionalista perché non è di questo che si tratta. In realtà è un provvedimento che andrebbe a colpire tutte le fasce della popolazione povera d'Italia e quindi riteniamo di doverlo fermare. I poveri pagano perché in questo momento in Italia, almeno che non vogliamo non accorgersene, c'è una diminuzione dei salari molto importante, c'è un'inflazione molto alta e questo in genera diciamo per i redditi medio-bassi un ulteriore aggravamento della condizione di povertà. E noi siamo convinti che l'autonomia differenziata sarebbe l'ennesimo elemento diciamo di accrescimento di questo divario tra le classi sociali. E ora passiamo alla pagina degli eventi, al Rocella Summer Festival e il concerto di due artisti italiani, Nek e Francesco Renga. Senti quanto l'umore il cuore fa da solo, dividiamolo in due, io l'attendo per te, la sua parte è migliore. Fatima timore, questo è il mio suo padre. Fatima timore. Siamo fatti bene e amare. Francesco e Filippo Neviani in arte Nek sono molto amici tra di loro e hanno unito le forze per celebrare insieme le loro carriere con un live originale, dinamico e divertente. Dai loro successi di Sarremesi, rispettivamente Laura non c'è ad Angelo, i due durante la serata hanno parecchio interagito con il pubblico presente, hanno scherzato e soprattutto si sono goduti in live in quel contesto unico e particolare che la location dell'anfiteatro al castello di Rocella offre. Un concerto che si è rivelato una vera e propria festa con il pubblico che ha faticato a rimanere seduto. Proseguono gli eventi del cartellone della seconda edizione del Festival del Turismo Sostenibile Un'estate di Gusto, organizzato dal Comune di Lamezia Terme con il contributo della Regione Calabria in partnership con la Proloquo Cittadina. Stasera a partire dalle ore 21 il lungomare Falcone Borsellino ospiterà una goliardica serata in maschera. Fra mascherine, travestimenti e palloncini i lametini potranno godere delle bellezze del mare al chiar di luna e danzare felici. Una serata dedicata interamente a grandi piccini con musica, animazione e senza dimenticare anche l'aspetto gastronomico. La festa in maschera darà il via ad una golosa sfida di pizza acrobatica, chiacchiere carnevalesche e polpette calabresi. Passeggiando sul lungomare rigorosamente con mascherina e desiderio di far festa, ci si potrà unire ai balli di gruppo, canticchiare le hit dell'estate 2023 in un clima di amichevole socialità. E ritorniamo a Roccella Ionica nel Regino dove è stato presentato il libro curioso e leggero di Erminia Gerini Tricarico e Francesco Maria Spanò. In principio fu lo stoccafisso, il pesce delle tante storie e dalle mille ricette che continua a sfamare il mondo. Continuano i caffè artistico letterari 2023 curati dal Circolo di Rettura dell'Aras di Roccella Ionica e patrocinati dalla locale amministrazione comunale. Questa volta è toccato al libro in principio fu lo stoccafisso di Erminia Gerini Tricarico e Francesco Maria Spanò. Il libro è edito da Gangemi Editore. La presentazione è avvenuta presso Largo Rita Levi Montalcini sul lungomare a Roccella Ionica e a dialogare con gli autori c'erano Franco Silvano e Tony Di Cicoli. Questo libro ha l'obiettivo di far conoscere a un pubblico ancora più vasto qual è la storia dello stoccafisso del Baccalà e perché sostanzialmente nasce prima lo stoccafisso e poi arriva il Baccalà. È un libro che racconta sostanzialmente fin dall'origine come nasce l'essiccazione del Merluzzo del Baltico, come arriva per la prima volta in Italia e poi come mai nel 1500 non si usa più solo e esclusivamente essiccarlo il Merluzzo del Baltico ma si inizia anche a assalarlo e quindi farlo diventare Baccalà. È una storia che va al di là dei confini italiani in quanto rappresenta una storia che collega soprattutto l'Europa, in modo particolare vede i protagonisti i paesi della lega ansiatica, quindi stiamo parlando dei paesi baltici ma anche della Germania, della Prussia e in modo particolare un ruolo importante ce l'ha anche l'Inghilterra nei confronti degli Stati Uniti quando in Terra Nova che sarebbe l'attuale Canada, soprattutto nel 1700 e nell'800 la pesca del Merluzzo diventa un'attività strategica anche politicamente e quindi il gioco del possedimento dei confini marini diventa anche occasione di guerra e hanno come protagonista il Merluzzo, il Merluzzo di Terra Nova che è molto simile come caratteristica al Merluzzo del Baltico. La presentazione del testo sullo stocco, lo stoccafisso di Francesco Maria Spanò è un'occasione per tornare a ragionare di un legame tra territorio, cultura e gastronomia. Nell'Italia meridionale lo stocco rappresenta uno degli elementi portanti della gastronomia a tutti i livelli sia diciamo così la più semplice, la più popolare, sia quella anche più sofisticata e più aristocratica. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle ore 21. Grazie per averci seguito, appuntamento alle 14.30 con il raggio di sole Collino Polimeni. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Grazie per averci seguito, appuntamento alle 14.30 con il raggio di soleil.